Torno all'iniziativa del FAI a Trieste, iniziativa che peraltro a Trieste, come nelle altre città dove si svolge, riscuote sempre molto successo. Allora, Polo FAI, quest'anno che cosa ci dobbiamo aspettare a sette giorni tra altre cose della fine abbalcolare? Dunque, domenica 19 ottobre a Trieste, a differenza del resto d'Italia in cui la manifestazione si svolgerà il 12 di ottobre, noi, come ben ricordato, causa concomitanza, slittiamo di una settimana, si svolgerà appunto la FAI Marathon, che è una passeggiata culturale, non ha nulla a che vedere con la corsa, dispetto del suo nome, e quest'anno il tema scelto dal gruppo del FAI Giovani del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo del gruppo di Trieste, è la Trieste dei Commerci. Trieste dei Commerci, tra le altre cose, proprio oggi abbiamo visto sul quotidiano del piccolo, anche un altro locale storico, con il Bonunità Chiure insieme a tanti altri, ecco, il Giro dei Commerci, che cosa però riusciremo, cioè noi facciamo questo giro, però Trieste nel commercio, come tutte le città marinare, ha una storia enorme. È proprio quella che vogliamo raccontare attraverso dei luoghi simbolo, partiremo in particolar modo dal foro, dal foro romano, quindi sul Colle di San Giusto, proprio perché è il primo luogo di incontro, di scambio commerciale, a livello proprio storico, per cui della Trieste di origine romana. Il nostro percorso si snoderà poi attraverso istituti oggi di BTI a banche, già sedi di assicurazioni, o di importanti comunità che, con la proclamazione del Porto Franco, hanno fatto fortuna nei commerci e hanno reso così, diciamo, ricca e per certi versi così spettacolare la nostra città. Grazie.